Gli allenamenti stanno procedendo molto bene, ovviamente queste due settimane senza partite siamo focalizzati su alcuni aspetti del gioco che è importante e lavorare, ma che sono magari leggermente meno collegati con quello che è il game plan di giornata, per cui sicuramente è un periodo utile. Il bilancio è positivo, sicuramente avremmo voluto raccogliere qualche punto in più, soprattutto nelle ultime tre partite. Ci sono state delle contingenze, ma sono convinto che possiamo fare di più nelle stesse condizioni, per cui l'obiettivo di questo prossimo blocco di partite sarà proprio quello di imparare da quello che ha funzionato meno e da quello che ci ha funzionato molto bene per riuscire a portare una performance sul campo ogni settimana che sia migliore possibile. Credo che abbiamo giocato ovviamente in casa, siamo stati più efficaci, abbiamo giocato delle partite migliori a 360 gradi. Anche la partita dei Bulls che ci è sfuggita negli ultimi nove minuti, in realtà è stata una partita che per 71 minuti è stata molto consistente. Ancora ci manca qualcosina per competere contro le migliori squadre, perché alla fine Bulls ha giocato la finale l'anno scorso, quest'anno vuole vincere il campionato, per cui è una delle migliori squadre. Per cui è un punto di riferimento per noi, ma ci sono stati tanti aspetti positivi anche in quello, per cui mi è piaciuto il piglio della squadra, come ha giocato, l'ambizione con cui ha giocato, ma soprattutto il controllo, la gestione delle varie situazioni nelle zone del campo che è importantissima nel rugby di oggi. Dall'altro lato su quello che possiamo migliorare sono sicuramente le performance fuori casa, come ho detto sono state delle contingenze e delle necessità di turnover per tutta una serie di motivi anche non collegati direttamente a noi, ma questo fa parte del gioco e sono convinto che i giocatori che magari hanno fatto più fatica utilizzeranno quello che hanno imparato da quelle partite per essere più performanti quando avranno nuovamente l'occasione. Ovviamente ci aspettiamo tanto dei nuovi innesti, sono tre giocatori di qualità, ma l'attelanatore eravamo abbastanza corti di esperienza perché a parte Lucchesi e Nicottera con l'infortunio di S siamo rimasti un po' scoperti e purtroppo è una posizione in cui l'esperienza conta tanto, credo che i giocatori giovani che abbiamo, Frangini e Rojo, stiano facendo una buona progressione ma ovviamente serve tempo per cui quello che mi aspetto è che sia consistente nelle fasi statiche e poi porti l'energia in campo in attacco in difesa perché è un giocatore che ha nell'esplosività una sua dote. Da parte di Minozzi e Jacob ovviamente mi aspetto grande qualità, sono due giocatori di livello internazionale per cui sono convinto che aggiungeranno qualità alla nostra linea di tre quarti. In due ruoli diversi, Matteo può giocare sia alla che estremo, Jacob può giocare sia a 10 che estremo, per cui all'occorrenza potremo ruotare molto le posizioni, soprattutto con l'infortunio di dare Marine di lungo corso perché non saranno cose veloci e c'era necessità di essere coperti in questo, per cui credo che sia positivo, credo che ci siano le condizioni affinché la squadra possa fare un altro step di evoluzione e performare sempre meglio. Dipenderà molto da caso a caso, faremo le valutazioni più importanti dopo le convocazioni del Sudafrica, per cui una volta che verrà diramata la formazione, soprattutto dopo la partita, per vedere chi può scendere in campo. Come linea generale cercheremo ovviamente di dare il giusto recupero a chi ha giocato di più, subito, perché questo è necessario, mentre chi ha giocato di meno sarà a disposizione e verrà gestito il recupero necessario anche per loro magari con il turnover nelle due o tre settimane successive, per cui l'obiettivo sarà mettere in campo sia Edimburgo che a Connacht, diciamo, nelle due partite subito dopo la finestra internazionale, la squadra più competitiva possibile, tenendo conto che qualcuno necessariamente dovrà riposare, ma sono fiducioso che la maggior parte dei giocatori saranno pronti e super energici per portare in campo quello che hanno.